Sono arrivati per venire, per venire, polizia, con le occhi della polizia. Mi sono appassato al balcone, visto che questo signore è nuovo, che si è tenuto alla porta, e poi ho visto insieme alla signora quello che è successo. Altro non lo visto, conosceva lei. Lo conosceva? Conosceva il mio ragazzo, conosceva il mio centro che mi trovi a me. Lui era sempre sul balcone, fumava, sputava nella via. Era prevedibile una roba del genere, oppure non lo so? Erano già venuti perché lui, fumando, buttava giù le sigarette, il vetraio, gli ha chiamato i lucidi. Signora, che cosa ha provato quando l'ha visto nudo e insanguinato sul balcone? Sì, sì, sì. Tanta penna. Tanta penna. Tanta penna. Perché lui diceva... Cioè... E la prima mia lì, senza metterlo fino alla legna, senza scoprirlo. E allora lui diceva, sto male, sto male. E poi, prima hanno portato in macchina il ragazzo. E poi, prima, se volare in macchina il ragazzo. Grazie.